Gentili telespettatori, buona giornata e così a Quarta Repubblica Paolo Mieli, l'innamorato di Schlein, lui che si sente soggiogato dalla grande capa, lo ha detto lui l'altro giorno, che la capa ha un fascino che noi non abbiamo ancora capito, Paolo Mieli affossa il PD e dice per debellare quelli che vengono chiamati cacicchi servono 60 anni. Allora sapete che in politica dicono un sacco di fesserie, il termine cacicco tradizionalmente indicava i capi di alcune comunità tribali in America del Sud e nel Messico, oggi si riferisce al capo del villaggio. La parola originaria apparteneva alla lingua del Taino, il cacicchi, capi bastone, in gergo giornalistico e politico si riferisce a quegli esponenti locali di un partito che controlla in maniera clientelare e opaca i voti, la politica e gli affari sui loro territori. Abbiamo capito cosa sono i cacicchi, adesso non mi viene la parola, però se mi viene ve lo dico, va bene, i cacicchi, chiamiamoli così anche se è una parola che mi dà veramente fastidio. Il Partito Democratico è controllato non dal vertice ma dal basso, pieno di questi capi bastone, di questi signorotti locali che comandano sul territorio con collusioni con la mafia, a criminalità organizzata, comprano o vendono voti, ecco, Paolo Mieli dice che il PD per debellare questa gente servirebbero 60 anni. Servirebbero 60 anni ma il fatto è che il problema del PD già sollevato da Nicola Zingaretti, capo politico, segretario di qualche tempo fa, stessa cosa disse Letta, stessa cosa disse Lashla, il partito è formato da questi capetti locali, andrebbe riformato il partito, andrebbe cancellato tutto, rifatto tutto da zero, ma attenzione, tu cancelli il partito, rifai tutto da zero e poi sono gli stessi cacicchi che tornano nel nuovo partito, quindi non riesci a liberarti di questa gentaglia, chiamiamola così, di questi politici corrotti. E così a Quarta Repubblica, su Rete 4, a Nicola Porro, ci sono le inchieste giudiziarie che travolgono il PD in Puglia e Piemonte. Poi nella prossima puntata parleranno anche delle inchieste giudiziarie di Fratelli d'Italia che compravano i voti in Sicilia come il PD in Puglia e in Piemonte. Avete visto che subito cavalcare il PD che compra i voti, vai campagna elettorale, poi il giorno dopo dirice Fratelli d'Italia ha arrestato uno che comprava i voti, allora adesso che fai? Parli anche di Fratelli d'Italia o fai finta e non parli più neanche di PD e Puglia perché i politici e i partiti più o meno sono tutti uguali? I politici lo sanno benissimo che un voto costa 50 euro, però fanno finta di non saperlo e di non vedere che i propri politici periferici sono dei maneggioni che comprano e vendono voti. Lo sanno tutti che costavano 50 euro i voti. Andiamo avanti. Il dibattito si accende sull'ultimatum lanciato dalla segretaria Ellie Schlein che dice abbiamo dei mali da estirpare, non vogliamo più vedere capi bestoni e cacicchi vari con chi ce l'aveva, ce l'aveva con tutto il suo partito e anche su alcuni big del Partito Democratico che esercitano sui territori un forte potere accentratore. Pertanto i famosi del PD, si parla nella trasmissione, sanno perfettamente quello che succede nei territori, anzi non dicono niente e spalleggiano questo. Sulle famose correnti, poteri accentratori, non vogliamo più vedere irregolarità sui tesseramenti, diceva Schlein. Ma dal dirlo alla realtà poi c'è di mezzo un mare. Bene, diciamo che anche Conte interviene dicendo io sto con lei se combatte i cacicchi. E poi avverte Paolo Mieli, Schlein si è messa vicino a Francesco Boccia che i cacicchi li conosce molto bene. Le battaglie contro i cacicchi hanno una loro storia, erano dei ras e per debellarli, si calcola da storici, ci vogliono una sessantina d'anni. Di questi sessant'anni, ventisette sono già passati, da allora dura una guerra che per adesso vincono i cacicchi. Perché il cacicco è furbo, dice Paolo Mieli, ex direttore del Corriere della Sera, oggi editorialista. Spero che Schlein stia altri trent'anni e vinca la guerra contro i cacicchi. Ve l'ho detto che questo Mieli si è infatuato politicamente, chissà, magari è infatuato politicamente di questa Schlein e per lui è un politico eccezionale. Io inizialmente pensavo che le lodi di Mieli alla Schlein erano d'ufficio, nel senso che immaginavo che Mieli lodasse la Schlein perché ovviamente era meglio lodarla che affossarla perché tanto quella non se ne sarebbe andata dal PD, non avrebbe dato le dimissioni, allora la teoria è sostengo la Schlein perché tanto non se ne va e se non la sostengo faccio il gioco del centrodestra. Io pensavo che era questo il gioco di Paolo Mieli, però lui ha svelato che proprio a lui la Schlein per lui è un idolo indiscusso, una cosa incredibile e lì credo che ci sia qualche fattore diverso perché una persona intelligente come Paolo Mieli se solo sente parlare la Schlein, la sente ragionare non può stimarla perché tutti voi avete sentito fare i ragionamenti alla Schlein in televisione, avete sentito parlare, ecco non potete dirmi che è un grande politico, cioè con tutto il rispetto, come se fosse vice sindaco, non puoi dire che la Schlein è un sufficiente politico, da 1 a 10 oscilla tra l'1 e lo 0, anzi credo che se vogliamo parlare di capacità politiche della Schlein per me sono 0, poi magari conoscendola ha un grande carisma perché per essere arrivata lì comunque devi avere un certo carisma, però oltre il carisma secondo me non c'è nulla di politico e non lo dico perché devo andare contro questa donna d'ufficio, assolutamente non è che ce l'ho con lei a prescindere, non sono un tifoso, l'avete visto, però non si può ascoltare. Grazie a tutti e arrivederci a presto.